Stasera vi faremo ascoltare un po' della nostra tradizione tipica siciliana con canti, suoni e poesie della nostra terra amata di Sicilia. Natale sul colle, uno spettacolo di luce e fuoco alla cattedrale. Un momento importante, abbiamo dato la possibilità alla cattedrale di illuminarsi di rosso quasi a esprimere il calore di una madre ma nello stesso tempo anche quell'attenzione costante nell'attesa dell'aria apertura. Il fuoco e le luci in piazza a ripropiarci di uno spazio architettonico che travolta è abusato, diventa come parcheggio e diventa anche l'occasione per vivere bene in Natale. Il fuoco, le luci, i colori ma anche le musiche natalizie con la conclusione al Museo Diocesano con il concerto dell'orchestra Chattopitré e gli auguri del Vescovo, il Palazzo Perso della Città. La gente che può salire può fare gli auguri direttamente al Cardinale. Un momento veramente importante che la luce non illumini solamente la piazza ma riesca a illuminare anche il nostro cuore e a riscaldare la nostra vita. Grazie e Buon Natale! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!